Ho detto subito, non è il messo lo strumento. Allora, lo avete sentito? Io l'ho sentito e non credo alle mie orecchie. Un signore che non è stato votato da nessuno in vita sua mai, mai, e che ha la presunzione di rappresentare tutti gli italiani, fatemi spegnere questa voce, di rappresentare tutti gli italiani in Italia, in Europa, ovunque. E dice delle falsità che non stanno né in cielo né in terra. Nessuno ha detto le falsità che lui attribuisce né a Giorgia Meloni né a Matteo Salvini, perché nessuno ha detto che lui ha già firmato, perché sappiamo benissimo che lui andrà, che lui dovrà andare al Consiglio Europeo, che hanno detto che sarà convocato il 23 di aprile. Ma la cosa scandalosa è quando lui continua a dire che voleva l'unità del paese, l'unità del paese, caro signor Conte, caro primo ministro, presidente del Consiglio dei miei stivali, la dovresti fare in Parlamento. La signora Merkel va lì forte della posizione del suo Bundestag, va lì forte della posizione dei suoi lender, Rutte, il primo ministro olandese, va lì forte della posizione del suo Parlamento. Tu invece vai lì da solo, mandi i tuoi scagnozzi, perché tali sono i tuoi scagnozzi, e noi dovremmo, come tanti pinguini, applaudire le cose partorite dai vostri cervelli, mediati dal signor Casalino. Ma dove stiamo? Ma dov'è la democrazia che ci avete scippato? Tu devi andare in Parlamento, come ti ha chiesto Giorgia Meloni, e lì trovi la posizione dell'Italia, degli italiani, che esce da un voto del Parlamento e vai con quel mandato a Bruxelles. Non tu vai a Bruxelles e vuoi che a casa i pinguini applaudono le cavolate che tu vai a fare a Bruxelles. E non dire, non dire, caro Presidente del Consiglio, che è lontano dalla vostra idea, perché abbiamo sentito il MES, perché abbiamo sentito Gualtieri parlarne bene, perché abbiamo sentito Sassoli, Presidente del Parlamento europeo italiano, dire con grande sussiego che l'Italia ha dato 17 miliardi e ne può prendere 34. Ma voi capite, capite che grande onore. E hai detto una cosa gravissima. Tu hai detto che noi comunque non vogliamo accedere, e vediamo, speriamo che sia vero. Ma che altri paesi potrebbero accedere? Allora, caro signor Conte, sai cosa succede? Che gli altri paesi che possono accedere senza condizionalità, perché rispettano le regole, i parametri, i parametri che sono richiesti e che noi purtroppo non siamo in grado di rispettare, quelle per quei paesi possono accedere e chiedere delle cifre anche alte, e noi italiani potremmo essere costretti a dover pagare altri miliardi per andare a rimpinguare quel fondo che è solo parzialmente finanziato perché altri paesi possano accedere gratuitamente, quindi senza condizionalità, ai prestiti del MES. Ma tu lo sai di cosa stai parlando? Oltre alla prosopopea, la villania, la maleducazione, la mancanza assoluta di democraticità, d'altronde non possiamo noi pretendere democrazia da un signore che non è mai stato, mai, mai, mai votato da nessuno, né in un consiglio comunale, né in un consiglio regionale, né in una votazione nazionale. bisogna smetterla, bisogna smetterla di dare lezioncine da professorino di provincia, quale sei, a tutto il paese, a tutti gli italiani, a tutti i politici che hanno fatto la gavetta e che rappresentano milioni di italiani che invece li hanno votati e che li vorrebbero tanto votare di nuovo, caro signor Conte. L'Italia sta allo stremo, di cosa ti riempi la bocca? Che noi abbiamo i tedeschi che hanno i soldi messi nei conti correnti, abbiamo tutti i paesi europei dove i loro cittadini hanno soldi, aiuti e da noi neanche un euro, un centesimo, neanche una lira, si diceva una volta. E forse possiamo dire la stessa cosa, non c'è una lira nelle tasche degli italiani, nei conti correnti degli italiani. Non hai mantenuto una cosa. Avevi detto che l'Inps avrebbe pagato e l'Inps ancora non ha pagato entro la data prima di Pasqua, invece se ne parlerà dopo, dopo Pasqua. Le banche, le banche non hanno linea e guida dalla Banca d'Italia per poter pagare e dare i soldi agli imprenditori. Ma di cosa vai cianciando, professorino? Smettila di farti consigliare da Casalino. Casalino ti può consigliare come depilarti se sei anche tu uno che si depila. Perché l'ho scoperto adesso sui social, andate a vedere. Casalino insegnava ai tempi del grande fratello come depilarsi le ascelle. Ecco, se vi depilate le ascelle Casalino può essere anche utile. Se no Casalino non serve un tubo. Quel culto della personalità lì, eccoti lì sempre solo. Anche Trump, che criticate tanto, si presenta sempre con una squadra a persone che parlano delle varie cose, dei vari settori, dei vari ambiti. Tu sei onnisciente, onnipotente, disceso dal cielo, uomo unto non so da chi. È ora di finirla, di finirla. Perché hai ragione su una cosa. Noi non abbiamo, non è l'Europa che ci rovina. Siete voi, voi che ci rovinate. Abbiamo sentito adesso anche la solidarietà da parte degli italiani, che vuol dire una sola cosa, la patrimoniale. Vecchio vizietto della sinistra. Perché noi non abbiamo bisogno dell'Europa per essere ammazzati. Ci bastate voi, voi caro Conte. E allora di che cosa vai cianciando? Ieri ti sei nascosto come un coniglio, aspettavamo ieri sera. La tua conferenza. Invece no, ieri sei fuggito, la conferenza non l'hai fatta. Poi doveva essere oggi alle due e mezza. Poi doveva essere nel pomeriggio. Poi alle sette e mezza. E finalmente alle sette e mezza ti sei palesato. Per dire le solite ovvietà. Per attaccare, per attaccare l'opposizione. Ma dov'è la democrazia? Tu, presidente del Consiglio, che dovresti essere il presidente di tutti, attacchi facendo nome e cognome l'opposizione. A parte abbiamo saputo da te che di opposizione ce n'è soltanto due. Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Quindi fratelli d'Italia e Lega. Di altra opposizione in questo paese evidentemente non ce n'è. Non l'hai vista tu, non la vedo neanch'io. Ma come ti permetti da presidente del Consiglio di fare un attacco di questo tipo all'opposizione? Tu, che saresti l'avvocato degli italiani, di tutti gli italiani, perché sei presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio dovrebbe essere il presidente di tutti gli italiani. Ma ti manca quell'esercizio di democrazia che si chiama voto. Voto. Ti ricordi. E guarda che questa cosa in Europa non è di poco conto. Perché Monti, Monti, che diciamoci la verità, comunque come professore era su un altro pianeta. Perché il professor Monti era comunque il professor Monti con un certo curriculum e con una certa carriera alle spalle, con una certa credibilità. Il signor Giuseppe o Giuseppe Conte, prima che uscisse dal cilindro della sinistra, non era molto conosciuto. Io sono andata in internet a vedere, c'era un unico video dove parlottava, non si capiva di che cosa. Ma il signor Monti fu consigliato dai partner europei a presentarsi alle elezioni. Perché in Europa un leader che non passa attraverso il voto dei cittadini non è una cosa che piaccia moltissimo. Perché loro, per quanti limiti abbiano, a casa loro, a casa loro, si fanno votare. E consigliarono a Monti di fare lo stesso. E di fatto gli italiani lo bocciarono. Bene, non credere che in Europa la tua posizione sia una posizione molto rispettata, una posizione molto che piaccia. Perché non sei passato per nessuna elezione. E sarebbe ora che si finisse in questo paese di mettere presidenti del Consiglio, non di passaggio, ma per una legislatura che stanno lì senza aver avuto il voto di nessuno. E allora il MES è una fregatura in ogni caso. Perché se noi accediamo al MES per cifre che comunque non sono risolutive, non solo mettiamo la testa nel cappio, perché ahimè, voi la testa nel cappio all'Italia l'avete già fatta mettere. Ma tiriamo la corda, apriamo la botola sotto i piedi dell'Italia con le conseguenze che sappiamo. Ma anche nel caso in cui non accediamo noi, non chiediamo noi l'attivazione del MES, se altri paesi chiederanno l'attivazione del MES, lo ripeto, caro professorino, noi potremo trovarci nella situazione di dover dare soldi al fondo, al MES, perché altri paesi accedano a questi prestiti e loro sì, senza condizionalità. Perché loro, che si sono fatti il vestitino su misura, possono, rispettando le regole e i parametri di Maastricht, accedere al fondo senza condizionalità. E allora tu, se sei l'avvocato degli italiani, lo dimostrerai quando avrai una sola parola e non una conferenza stampa, una diretta su Facebook o una conferenza stampa dove racconti un sacco di palle agli italiani che non hanno, ripeto, ricevuto un euro, un centesimo, che siano famiglie, che siano imprenditori, che siano partite IVA, che siano artigiani, che siano famiglie numerose, che siano anziani, non hanno ricevuto un euro e la burocrazia li sta strangolando perché non avete tolto un minimo di burocrazia. Questa mattina, questa mattina ho visto al telegiornale in un collegamento che i tante firme che avete osannato e glorificato della moda, anche dell'alta moda, che hanno riconvertito delle linee di produzione per fare mascherine e presidi, presidi per tutelare la vita di chi sta lottando in trincea contro il coronavirus, non riescono a lavorare e potrebbero produrre 200.000 mascherine al giorno per i medici e uno o due milioni, non ricordo, per i comuni cittadini per andare a fare la spesa, eccetera, eccetera, perché c'è quella stramaledetta burocrazia, perché tutti lo dicono e lo ripetono. La burocrazia che in tempo di pace in Italia strangola il paese, adesso che siamo in tempo di guerra, non è diminuita di un millimetro, non è arretrata di un millimetro e allora abbasso la spocchia, abbasso quella rietta da professorino di provincia che dà lezioni a tutti gli italiani, perché gli italiani possono dare lezioni a te e a tutti quelli come te, oggi, domani, per tutto l'anno, per tutta la legislatura, per tutti i secoli a venire, perché non ne possono più. E state attenti perché c'è una Italia che sta soffrendo ma che non può più sopportare questo atteggiamento, non lo sopportiamo più, non lo sopportiamo più, prima o poi, prima o poi, si arriverà alle urne, prima o poi, si arriverà alle urne e prima o poi i conti verranno fatti, ma io mi auguro che vengano fatti prima che voi abbiate distrutto l'Italia, vergognatevi, è una vergogna, è uno scandalo. Dite che sono bugiardi gli altri quando voi siete i re del doppio gioco, i re della mezzogna, i re dell'infingimento, i re della non democrazia. Basta, non se ne può più. Io, quando vedo e ascolto certi discorsi, penso veramente che dobbiamo aver toccato il fondo, ma poi il giorno dopo mi sveglio, riapro la televisione e vedo che il fondo non l'avevamo ancora toccato. Ringraziate il cielo che in Italia ci sono milioni di italiani, milioni di italiani con la testa sulle spalle, che il capitale umano in Italia è di una tale forza, è di una tale qualità che ce la faremo nonostante voi, però pensateci bene a quello che fate e toglietevi dalla faccia e dai toni della voce quella rietta insopportabile e arrogante perché non se ne può più, i tempi non lo concedono, non lo concedono. Buona serata. Buona serata.